ciao a tutti questo breve ril per spiegarvi un paio di cose sulla lilith in leone di cui abbiamo parlato per la prima volta praticamente nel video nell'oroscopo della settimana fino al 3 giugno che di cui trovate il link nelle storie allora ragazzi sono tutti un po preoccupati perché ho detto che la luna nera congiunta a marte e leone può creare complicazioni arrogante per situazioni ecco di ego di arroganza insomma può creare delle complicazioni ma noi abbiamo e tutti vogliono sapere cosa accadrà noi stiamo avendo a che fare con lilith in leone dal 3 agosto 2022 e l'ultimo transito di lilith in leone mi risulta a febbraio 2024 nello specifico il giorno 19 quindi due anni è tipico della lilith andare avanti giocare con un paio di segni anche tre no quindi fare delle continue retrogradazioni 15 giorni in un segno una settimana un altro poi lambisce il segno successivo poi ritorna indietro quindi noi abbiamo già avuto a che fare dal 2022 con questo transito adesso sicuramente marte dopo che abbiamo preso un po di confidenza no perché lo stiamo vivendo da circa nove mesi dopo che abbiamo preso un po di confidenza con questa con questo tipo di energia che è collegata al nostro orgoglio primario a quella a quella sete di dominio degli altri che c'è in tutti gli esseri umani perché proprio insita nella macchina biologica cioè nel corpo che ci viene dato quando arriviamo su questa terra no proprio parte delle delle bassezze terrene il bisogno di dire agli altri quello che devono fare di comandare dell'autoritarietà e di imporre il nostro volere spesso chi non ha lavorato su di se più comanda agli altri più riesce a far fare agli altri quello che vuole così per il puro gusto di dominare più sono soddisfatti ok quindi già questo dovrebbe farvi capire che questa lilith in leone complica la vita a chi magari non ha mai fatto una presa di coscienza su queste ottave no sul lato basso del segno del leone chi ha lavorato un po collego chi ha cercato di lavorare di sviluppare l'umiltà che ha cercato di così di smussare un po queste quella forma un po di violenza no perché dominare gli altri fondamentalmente è una forma di prepotenza barra violenza attinge a quel ceppo dell'energia chi ha lavorato con queste dinamiche chi ne ha preso consapevolezza gestisce meglio quindi questa lilith serve per far vedere per far venire a galla qualcosa che ovviamente abbiamo dentro non è colpa di lilith se noi lo tiriamo fuori ok cioè lilith il leone non è una possessione è un'energia plateale perché tutto quello che è il leone è difficilmente nascondibile perché proprio fatto per essere plateale per essere su un palco per essere messo su un palcoscenico quindi la lilith il leone significa mettere alla merce degli altri quindi rendere visibili le nostre ottave più basse legate ai lati meno nobili del leone quindi l'arroganza la presunzione l'orgoglio e voler avere ragione il comandare la vita degli altri il rubare la scena anche quando il non saper stare nel nostro e insomma le nostre manie da prima donna no tutte queste declinazioni qui anche un certo materialismo una bella competizione gratuita del tutto con gli altri queste sono le ottave basse del leone le scorrettezze e l'essere disposti a fare le scarpe agli altri pur di ottenere qualcosa perché tanto ad ottave alte il leone nobile tanto ad ottave basse può avere quella vibrazione no di fondo che è data dalla scorrettezza l'invidia l'invidia un'altra delle ottave basse del leone perché desiderando lui brillare ed essere re della foresta si arriva a qualcuno che brilla insomma lo nota immediatamente a un campanellino per vedere queste cose quindi quindi due anni di lilith il leone noi siamo nel bel mezzo questo è il transito più intenso probabilmente a livello di manifestazione ma state tranquilli che l'anno scorso quando lilith il leone si è manifestata la prima volta c'era saturno opposto quindi se siamo sopravvissuti non dobbiamo se siamo sopravvissuti a quello non dobbiamo preoccuparci nel senso dobbiamo essere invece vigili l'ansia non serve essere vigili monitorarci essere onesti con noi stessi perché l'onestà quando ci sono dei transiti importanti il leone paga sempre perché essendo un transito plateale è meglio essere onesti con se stessi e non negarci che abbiamo determinati sentimenti altrimenti quelli verranno fuori e li vedranno prima gli altri e poi noi invece noi dobbiamo conoscerci prima per non farci mettere lo sgambetto dalla vita e lavorare sulla chiarezza no sulla chiarezza con noi stessi se noi sappiamo di essere fatti in un determinato modo magari in un momento di fragilità evitiamo delle situazioni che possono crearci no che possono metterci in difficoltà perché qualora fosse controproducente no commentere uno scivolone allora è meglio giocare in ritirata ok quindi con i pianeti in leone non ci si butta non sempre e comunque insomma a tutti i costi come un'ottava bassa del leone farebbe fare ma con il saggio è prudente perché conosce i propri punti deboli quindi adesso c'è questa energia che fa venire fuori le ottave basse del leone che vivono in ciascuno di noi e niente fino al 10 abbiamo l'opposizione con plutone ma ragazzi zitta zitta io non ve l'ho detta ma la stiamo monitorando insomma e abbiamo l'opposizione di marte a plutone dal 20 maggio quindi insomma no prendete nota di quello che è accaduto in questi giorni degli eccessi e insomma avrete chiaro quello che sta accadendo non preoccupate più di tanto della croce uno perché non possiamo spostarla nel senso che il primo giugno c'è è la luna e scorpione quindi si crea la croce toro scorpione leone acquario ma magari di quella parliamo in un altro ril e quindi abbiamo ancora lilith il leone stavo guardando se marte si mette di contro allora un altro momento ma ovviamente ne abbiamo il tempo di parlarne un altro momento molto intenso per questa lilith il leone sarà esattamente a gli ultimi negli ultimi giorni di febbraio dal 10 al 19 perché entrerà marte in acquario quindi quando lilith il leone sarà per salutarci definitivamente quando avrà ci avrà fatto vedere tutto l'ego tutto l'orgoglio che abbiamo dentro come ultimo crash finale voi sapete i famosi colpi di coda e colpi di testa l'ultima settimana di transito lilith il leone si scontrerà si opporrà con marte in acquario di modo che ci saranno magari delle lievi tensioni fra noi e gli altri e vedremo se saremo ancora in grado di dire lei non sa chi sono io oppure se riusciremo a sviluppare un'empatia nei panni di chi abbiamo di fronte che ci ovviamente no e quindi ci manifesterà se abbiamo fatto un buon lavoro su di noi sulle nostre ottave basse leonine o se purtroppo dobbiamo ripetere l'esperienza quindi state tranquilli tutti spero che questo video vi vi sia utile lo metterò sia su instagram che su youtube un grande bacio fatemi sapere quali altre specifiche quali altre curiosità avete sui transiti del momento e noi ci vediamo al prossimo video un bacio a tutti